Allora ragazzi bentornati su Edicola C64, questa volta giochiamo a Reporter, Reporter, e bene sì, è un gioco, un gioco molto particolare che io c'avevo da ragazzino e che mi pensavo che tu in questo gioco facevi un agente segreto che doveva liberare una ragazza all'interno di un albergo, invece no, e invece no, poi ho scoperto crescendo che non era così in pratica tu sei un giornalista che deve riuscire a fotografare una ragazza, che è una VIP in questo caso, una diva che però sta all'interno di questo albergo pieno di loschi figuri che ci vogliono fare il mazzo quindi andiamo con il livello di difficoltà normale, eccolo qua, siamo il nostro, eccolo qui, che sembra che c'è i baffi qui nel gioco ma in realtà mi sa che è la bocca, possiamo aprire le porte, dentro ho trovato il flash, che la lampadina sarebbe il flash della macchina fotografica qua non c'è niente, qua non c'è niente, io vado via, vado via, vado via, attenzione che qua sono stronzi perché mamma mia, è difficile sto gioco ragazzi, perché sono tanti, come vedete, quelli che ci danno la caccia abbiamo preso la macchina fotografica, ci mancano i rullini adesso, e anche la chiave della porta dove sta la VIP allora quelli che ci seguono, vedete, quello vestito in rosso con i baffoni dovrebbe essere il capo cameriere il, non lo so, il capo cameriere, una cosa del genere, poi quello vestito in bianco è il cuoco, il figlio di una buona donna oh, ci segue adesso pure quello col pigiama, perché avendo aperto la porta gli abbiamo rotto le palle a quello che stava a dormire e quindi ma lui ci segue per tutto l'albergo perché ci può gonfiare, perché l'abbiamo disturbato nel sonno io sto un attimo qui, allora sto gioco all'epoca non venne molto, come si dice, non venne molto apprezzato ci fu la recensione su zap, ha preso un voto veramente infame, però io devo dire che invece sto gioco lo trovo molto accattivante molto carino, molto simpatico andiamo giù, vedete ci sono anche i quadri ben fatti insomma un gioco, però qua già a livello 3 è difficilissimo il gioco, come vedete allora, cucine bar direzione, quello vestito di nero dovrebbe essere il direttore dell'albergo quello vestito di rosso non lo so, è il barista, non lo so, quello vestito di bianco è il cuoco sicuro quello vestito di rosso io sapevo che era, oh c'è il pass c'è il pass, eh mi hanno fregato ragazzi, no è difficile a livello 3, dobbiamo abbassare un po' l'albergo di difficoltà perché a suo livello è veramente difficile riuscire a finire i livelli, io non ce la faccio, almeno mi ricordo pure all'epoca che era difficile perché troppa gente non c'ha in modo nemmeno di contrattaccare, manca di che gli può tampugno o qualcosa, no puoi solo scappare se fai il salto li puoi saltare, però non è abbastanza perché vedete che spesso pure dopo il salto rimani fregato proviamo un po' con i salti se riusciamo a fregare, intanto ho preso il pass come vedete ogni volta è a random la posizione degli oggetti, però la VIP, la donna da fotografare che io ricordi sta sempre in alto a sinistra no vedete non ce la fai, non ce la fai vabbè ragazzi risettiamo un attimo il gioco, ecco intanto game over, mettiamo la Z come nome, ok andiamo a vedere un altro livello di difficoltà, facciamo livello, c'è livello 1, livello 2, facciamo il livello 1, quindi ci segue un solo nemico a livello 1 invece di 3, a livello 3 ci seguono 3 nemici, quello che ci segue è il portiere, vedete che rompe le, non è il portiere, il portiere è quello blu sotto, è tipo, pare lo chauffeur, no ma quello vestito di rosso è lo chauffeur ragazzi, è l'autista, abbiamo trovato la chiave, possiamo andare ad aprire la porta della VIP ragazzi, perché non è affatto male, guarda proprio lì dove vanno, e vattene, no no no, quello in pigiama che rompe li, li coions, scappa scappa, corri scappa, c'è il nemesis, non è proprio il nemesis ma insomma, rompe le scappate, vanno da qua, macchina fotografica, flash, no no no, scappiamo da qua, ma che intanto vado ad aprire la porta della VIP, se questo ci fa, no, come va solo, mannaggia lui e ve scendi, vattene, intanto apriamo la porta della VIP ragazzi, così ve la faccio anche vedere, la diva, eccola, come vedete, sta tutta in posa, e cambia anche i gambe accavallate, quindi non è che gliene frega niente ad essere fotografata, anzi lei vuole essere fotografata la VIP, però, però, dai, manca l'ultimo oggetto, no? Ho preso già tutto, lo posso fotografare, ok ragazzi, io pensavo quando ero ragazzino che lei era tipo prigioniera, era legata alla sedia, invece no, sta in posa, e non la abbiamo fotografata, e abbiamo portato a casa lo scoop ragazzi, e passiamo a livello 2, livello 2, dove vediamo che il livello cambia, diventa un po' più complesso, non so se si possa saltare qui, perché come vedete, il gap diventa molto più grande, e infatti se ho cascato esattamente efficiente, si dovrebbe riuscire, però devi saltare proprio al limite, devi stare proprio sul pixel, andiamo a vedere, vaffanculo, no, che mono, ma così va bene, no, non veni qua, non veni qua, si ce l'ho fatta, e i nemici come vedete non possono saltare, quindi è una cosa positiva per noi, no, ma dov'hai, dov'hai, torna indietro, no, no, quella dovevo proprio aprire i portaggi vostri, allora io me lo torno e vado su, apriamo queste due porte, allora qua c'è la VIP nella porta in alto a sinistra, qua non c'è un bel niente, niente, io non trovo niente, nella chiave, ho trovato solo la macchinetta finora, ok, andiamo qua, flash, abbiamo preso il flash e la chiave, ci manca solo il passi, poi non ho capito che gli serve a fare passi, perché gli serve il passi, chi lo sa, intanto andiamo ad aprire la porta della VIP, mamma mia per un pelo io ho fatta, apriamo la porta della VIP, perfetto, scendo giù, no, sono cascato dal gradino, ho infame sto gioco, perché se lisci il gradino schiatti, fine, fine, mettiamo due Z stavolta, ragazzi vi voglio far vedere le curiosità, poi nei livelli più avanti ci sono anche tipo degli ascensori che vanno su giù un casino, tipo alla Mission Elevator se vogliamo, infatti sto gioco qualcosina di Mission Elevator c'è là, eh, andiamo a vedere ragazzi il livello di difficoltà più difficile, così vi faccio vedere quanto diventa impossibile il gioco, livello 5, cioè ci segue tutto il mondo praticamente mo, allora mo arriva lo Schaffer subito al volo, eccolo, poi arriva il cuoco, il barista, eccolo di Mission Elevator bianco, il barista, poi arriva il cuoco e il direttore, guarda, tutti quanti, eppure il portiere, quindi già sono 5 stronzi che ci seguono, mo appena arri- eh, becchiamo la porta col tizio che dorme, ci segue pure lui, e ci seguono in 6 quindi, il gioco diventa praticamente impossibile, io sarà che non ci ho giocato tantissimo a sto gioco, però non riesco a capire come fare a sfuggire a tutta sta gente che è veramente troppa, ecco, eccomo se non sei, ma beccato, ma beccato, ma beccato, ma beh ragazzi questo era Reporter, gioco fighissimo da Edicola, il titolo originale al momento non me lo ricordo ma lo vedete qui, aspetta, lo vado un attimo a cercare così ve lo dico subito, allora ragazzi questa è la schermata di caricamento della versione Special Program della SIP, questa qui invece è la schermata della seconda edizione del gioco che si chiamava, eccola qui, dove cacchio sta, Mr. Angry, ripubblicato la seconda volta dalla God Masters a fine anni 80, però la prima edizione si chiama in modo diverso, e ora la faccio vedere, non prima di aver rifatto vedere ovviamente la copertina della versione God Masters, eccola qui, Mr. Angry, e invece la versione originale si chiamava, eccola qua, Stringer, eccola qua, pubblicazione della Addictive Software, che vediamo che praticamente Stringer in inglese vuol dire appunto il reporter fotografico che lavora come freelance per un giornale, eccoci qua, dicevo, noi ci dobbiamo anche vedere la descrizione che sta sulla rivistina di Special Program, reporter, la tua carriera ha per così dire subito un rigido sviluppo e purtroppo sei ancora un povero, un rapido sviluppo, che rigido sviluppo, ma che sto a legge, che dico, sei un povero giornalista di provincia, la tua carriera non ha subito un rapido sviluppo, oggi sono un analfabeta, ragazzi, scusatemi, ma per merito di una soffiata speri di fare il miglior scoop della tua vita, un affascinante fanciulla, compagna di un terribile gangster, si trova all'hotel Behavior, ovviamente sono inventato il nome, se riuscirai a ritrarla e a farle un servizio, il tuo direttore ti darà senz'altro una promozione, mo, di che tipo di servizio se parla io non lo so, però, vabbè, ma prima di tutto dovrai recuperare la tua macchina fotografica, il flash, il tuo tesserino stampa e la chiave della sua camera, nascossi da un furfantello un po' ovunque, ma lo staff dell'hotel, dal portiere cameriere al cuoco, non sono soddisfatti della tua intrusione, cercheranno di ostacolarti, che dire poi del gangster, che ti inseguirà persino in pigiama, buona fortuna amico, quello non credo sia il gangster, quello sicuramente è un altro avventore dell'albergo disturbato dal tuo casino che fa in giro, ragazzi, ok, questo qui era il nostro reporter, ovvero Stringer, ovvero Mr. Angry e noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao ragazzi, alla prossima!